Ed eccoci qui nel nostro Yavstore Superstore, sono ben contenta oggi ragazzi di potervi parlare di Yamamoto Research, la nuova linea della Yamamoto Nutrition che ci dà la possibilità di poterci prendere di cura di tutti quanti voi a 360 gradi, quindi per andare a soddisfare tutte quelle che sono le vostre esigenze, non solo delle persone che sono dedicate al mondo del fitness e delle palestre. Bene, oggi parliamo di Nutraceutica quindi, di quanto comunque sta prendendo sempre più piede in grandissima espansione, introducendosi sempre di più anche nel campo dermatologico e della medicina estetica. Parliamo oggi di protezione della pelle dallo stress ossidativo grazie a un integratore fantastico che è il Fitoderma, un integratore alimentare di minerali e di vitamine, importante perché all'interno contiene anche licopene, olio di borragine e aminoacidi come cisteina e tirosina, quindi un integratore indicato per gli adulti. In particolare all'interno oltre a questo abbiamo anche il rame che contribuisce alla regolare pigmentazione della pelle, mentre invece lo zinco aiuta anche il fisiologico metabolismo della vitamina A che insieme alla vitamina E al rame e al seleno contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Durante il periodo estivo, anche per le persone che durante l'inverno vanno a sciare, è importante prendersi cura della pelle e soprattutto perché magari abbiamo un'esposizione maggiore al sole, quindi va comunque preso un mese prima, quindi un mese prima di un'eventuale esposizione solare, bisogna comunque fare questa cura con questo fantastico integratore. All'interno di Fitoderma abbiamo, come abbiamo detto, anche il beta carotene, molto importante perché comunque è un potente alleato per la nostra tintarella che viene convertito nel nostro organismo in vitamina A che è in grado di stimolare la sintesi di collagene e di melanina. Cosa molto importante, Fitoderma va ad agevolare quella che è la formazione del pigmento protettivo per la pelle. La melanina ha infatti comunque lo scopo di proteggere le cellule di epidermine e di derma, evitando così comunque quelli che possono essere i danni creati dall'esposizione solare. Ricordiamoci che però comunque è importante avere una corretta esposizione solare, questo perché comunque ci aiuta nella produzione di vitamina D che è fondamentale per le nostre ossa. Un'altra cosa molto importante che ci tengo comunque a dirvi è che all'interno di questo fantastico prodotto noi abbiamo anche l'olio di borragine che permette di mantenere una perfetta idratazione della nostra prelle creando un film idroprotettivo che la protegge e la idrata. Insieme al selenio questi acidi grassi polinsaturi contrastano quelle che sono le alterazioni degenerative delle cellule e dei tessuti causati dai radicali liberi. Fitoderma favorisce quella che può considerarsi comunque una bronzatura più uniforme, un bel colore luminoso e priva soprattutto delle macchie grazie anche al suo contenuto di tirosina che è un aminoacido che aiuta a creare la melanina. Fitoderma è un integratore alimentare per chi vuole favorire quindi una bronzatura in modo più salutare e soprattutto anche per chi vuole prevenire il cosiddetto photoaging mantenendo così la pelle molto più giovane, molto più elastica, nel godere ancora di più di quelli che possono essere i benefici che ci vengono donati dal sole sia per carnagioni chiare che per carnagioni scure e ci tengo comunque a dire una cosa molto importante è un integratore che non va a sostituire quella che comunque è la crema solare quindi comunque è sempre molto importante nel momento in cui avviene l'esposizione solare continuare ad utilizzare quella che è la crema solare. Bene anche per oggi è tutto io vi ringrazio e ci vediamo nella prossima puntata ciao Grazie a tutti